argomento di oggi allenamento invernale allora adesso non vi faccio un trattato su come se lena d'inverno ma puntualissimi tutti gli inverni arrivano a quelli che mi chiedono ma sente adesso che fa freddo adesso che è inverno esco di meno così mi sono scritto in palestra faccio spinning va bene per il ciclismo allora lo spinning è un'attività cardio ti fa sudare come sai solo te ma per tenersi in forma durante l'inverno è necessario aggiungere delle sessioni di forza e adesso non ti dico come fare la forza perché ci sono mille modi diversi ma fai forza in palestra coi pesi fallo sui rulli che adesso con quelli interattivi può simulare anche di rampicarti sullo zoncolan fallo fuori se c'è una bella giornata ma almeno una volta alla settimana fai forza perché il fondo si mantiene per tanto tempo anche senza allenarlo diciamo specificatamente ma la forza si perde in frattissima quindi mi raccomando una volta alla settimana forza è che la forza c'è con voi che Grazie.